Sono un bambino speciale Il successo che ho avuto ieri, non so perché, ho 953 visualizzazioni Benissimo Niente, volevo augurarvi buon anno E penso che per stasera ho una sorpresina Quindi state attenti al canale verso mezzanotte Più o meno Vabbè, niente ragazzi Volevo solo dirvi che sono contento appunto dell'andamento del canale Dell'andazzo del canale E volevo proporvi di farmi qualche domanda qui sotto Sotto il titolo Perché adesso non so se avete l'interfaccia vecchia o nuova Nella nuova c'è sotto il titolo e sopra il titolo Avete capito? Fatemi qualche domanda Quello che volete, chiedetemi tutto quello che volete Fare gameplay di qualcosa Magari chiedetemi fammi un gameplay su E io cercherò di accontentarvi Allora, per stasera ho una sorpresina Sperando che vada bene Metterò un video non elencato Che penso uscirà giusto giusto a mezzanotte Quindi state vicino al canale Sì E niente, volevo chiedervi Per quanto riguarda la community Mi fate un favore Il video che ho fatto Quello lì L'ultimo che ho fatto Non so come l'ho chiamato GamesTV Inizio entrato Quella cosa lì no Me lo potete spammare un pochino in giro Perché comunque è importante per me Che molta gente si iscriva a quel canale E mi aiuti a far crescere quel canale E niente, sono molto contento Anche riesco a fare un video al giorno Più o meno Siamo lì Se non c'è il video farò un live di sera Con Danny, Black Andrea Furious Vabbè, gente del genere Sapete quella specie di gente lì che mi segue E... No, sto scherzando E niente ragazzi Sono molto contento di questo Vorrei ringraziare anche il LiveLimon Per tutto quello che sta facendo per me Mi ha fatto ragazzi Due intro Per GamesTV La mia Mi ha fatto il VG Per ItaGamesTV Che è davvero spettacolare E chi è che mi scrive E niente ragazzi Mi raccomando Lasciatemi la domanda Quello che volete Dimmi quanti anni hai Tutto quello che volete È uguale Qui c'è un altro computer Ok E... Va bene Io vi lascio Buon anno ragazzi Ma... Mi raccomando Passate buone feste Perché è la cosa più importante Mi raccomando Fra una settimana inizio a scuola E quindi... No eh Niente che ho molta voglia Mi fa anche strano Parlare A una specie di cosa Sto cavalletto Che ho comprato A ma si chiama H-A-M-A R Con la R Capito no? E niente Il contest si chiuderà Stanotte A mezzanotte Quindi domani Penso che darò i vincitori Ma subito dopo Ragazzi Sorpresona Mi sa che ne aprirò un altro Che Sarà su O su Sei giochi Indie Oppure Su Minecraft Premium Di Oma Solamente che non ho soldi da parte Il primo me l'avevano regalato E niente L'ho preso Stavo dicendo Ehm È strano guardarvi così No niente Mi stavano chiedendo Cosa volevo mangiare Vabbè niente Ehm Mi raccomando Ve lo dico di nuovo Scrivetemi sotto Quello che volete Commenti Quello che volete Basta che commentate E lasciate un bel mi piace Come sempre Ho visto che ultimamente Siamo a 20 mi piace a video Non lo so perché Comunque Ultimamente Vedo che Mi state Mi state facendo molto piacere ragazzi Quindi Io vi lascio E ci vediamo alla prossima E ciao ciao Ciao